L'Abruzzo conferma le dieci bandiere blu dello scorso anno. Non ci sono nuove assegnazioni dunque, così come non ci sono revoche. E la provincia di Teramo, quella maggiormente rappresentata con cinque comuni della propria costa, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, tre in provincia di Chieti, San Salvo, Fossa, Cesia e Vasto, due comuni aquilani, Scanno e Villalago. La bandiera blu è un riconoscimento assegnato ogni anno a comuni costieri o lacustri dalla FEE, la fondazione per l'educazione ambientale, sulla base di una serie di parametri, qualità delle acque di balneazione, pulizia delle spiagge, servizio turistico offerto. In tutta Italia sono 195 comuni che hanno ottenuto la bandiera blu con un aumento di 12 unità rispetto alle 183 dello scorso anno. La soddisfazione del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Continua una tradizione che oramai va avanti da 23 anni di questo comune che è seriamente intenzionato a proiettarsi nella modernità, vivendo il senso di responsabilità verso l'ambiente, verso le future generazioni, attraverso atti amministrativi concreti. Siamo consapevoli che l'emergenza Covid ha enormemente pregiudicato le grandi potenzialità del nostro turismo estivo. Tuttavia il vestillo può aiutarci, può aiutarci non solo per programmare una stagione che ci consente ancora di essere competitivi, ma soprattutto prendiamolo come uno stimolo a riprogrammare i futuri anni. Mastica Amaro, Francavilla al mare, che ha sperato fino all'ultimo di poter ottenere la bandiera blu. Il sindaco Luciani, dopo aver tirato le orecchie a quelli che chiama gufi, i quali hanno esultato sui social per il mancato obiettivo, ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà formalmente alla FEE i motivi della mancata assegnazione. Considerando che gli ultimi sversamenti, gli ultimi inquinamenti li abbiamo avuti mi sembra nel 2014, dove giustamente ci revocarono la bandiera blu, però ora siamo nel 2020, abbiamo avuto sempre analisi pulite, abbiamo fornito servizi, siamo stati attenti all'ambiente. Quindi veramente oggi c'è un interrogativo nella nostra testa, vogliamo sapere il motivo per il quale siamo stati esclusi, ma lo chiederemo senza polemiche, solo per migliorare il percorso che stiamo già facendo.